Ciao a tutti, prima di sviluppare il contenuto di questo video vi invito ad andare a vedere la chiacchierata odierna che ho fatto con Nino JFC, Nino un caro amico ma è soprattutto un creator, come dite voi giovani, di qualità, quindi sosteniamolo, iscriviamoci al suo canale, vi lascio qua sotto tutti i link, qualora lo vogliate appunto ascoltare quanto ci siamo detti oggi tra attualità e futuro. Ovviamente il tema è uno solo, la Juventus, o meglio più temi all'interno di un macro tema. Allora, sono rimasto colpito dalle parole di Mattia Perin che alla presentazione del diciottesimo torneo Amici dei Bambini ha fatto un quadro su quanto sia accaduto in termini di penalizzazione, ovvero come abbia accolto questo momentaneo, almeno 15, il gruppo squadra. Una sorta di retroscena svelato dall'ex portiere del Genoa che ha detto questa situazione ci ha unito, su Whatsapp il giorno della sentenza abbiamo parlato, poi anche il giorno dopo in spogliatoio lo abbiamo fatto dicendoci cosa avremmo dovuto fare per affrontare questo momento. Abbiamo poi dato vita sul campo a quelle parole, questa crisi ha sottolineato Perin, l'abbiamo utilizzata per darci energia. E dall'esterno, barra da profano, ho avuto proprio la sensazione che la penalizzazione abbia fatto diventare la Juventus una squadra, perché prima non lo era. Certo, individualità importanti, se vogliamo anche un mercato significativo a livello di nomi, ma soprattutto nella premessa parte di stagione abbiamo assistito a un gruppo di calciatori che si ritrovavano il giorno gara, scendevano in campo con la stessa maglia, ma magari anche senza armonia, sicuramente con poco senso di appartenenza. Infatti ho battuto più volte su questo tasto, dicendo sì, ok, in quei mesi Allegri stava sbagliando di tutto e di più, sì, ok, probabilmente a livello strutturale la squadra non è stata rinforzata a dovere, sì, ok, il gioco, sì, ok, la tattica, ma qua non c'è senso di appartenenza. Cioè, che si perda, che si ninca, a questi non frega niente. Questa era la mia percezione. E devo dire che queste parole di Perin probabilmente fanno un pochettino scopa e vanno anche a sottolineare come alle volte, nelle difficoltà, ci si possa ricompattare, si possa creare un punto di rilancio. Perché la Juve poi ha iniziato a ottenere risultati importanti in campionato, perché la Juventus poi ha fatto quello che doveva fare in Europa League, auspicando che possa fare più strada possibile, magari con Vista Budapest, perché poi la Juventus è in corsa anche per cercare di vincere la Coppa Italia. Però, probabilmente, senza quel ceffone, senza quello schiaffo, difficilmente questo gruppo si sarebbe compattato in questa maniera. E devo dire che evidentemente, evidentemente, alle volte nella vita le batoste possono fare anche del bene, possono fare anche del bene. Si vede proprio lo spirito, come in termini di atteggiamento il gruppo-squadra si è cambiato, l'unione, fare quello scatto in più per il compagno, sbagliare un passaggio e chiedere subito scusa. Oppure anzi, tu sbagli, ma è l'altro a chiederti scusa, per metterti in una situazione di comfort zone, per farti sentire l'armonia. Ora, proprio adesso si nota come questa squadra, con i suoi pregi e con i suoi difetti, perché non è tutto rose e fiori nella maniera più assoluta, ma è una squadra, sa cosa fare in campo. E soprattutto, probabilmente, gli ultimi arrivati hanno compreso cosa significhi sfoggiare questa prestigiosissima casacca. Fine. Mi rincuora, mi rincuora che queste parole poi siano state rilasciate anche dallo stesso Perin, che se vogliamo, nella primissima parte di stagione è stato, come giocatore, una delle poche note lieti di questa annata, perché quando Perin ha sostituito Szczesny, ha fatto in modo che determinati parziali non fossero estremamente corposi. Penso a Parigi. È un portiere che, tanta roba, tanta roba, è un lusso, un lusso forse spropositato per una Juventus, che non è a livello top, top, top. Però, vero come secondo Perin, è tanta roba, anche perché è uno che fa molto spogliatoio, ve lo posso garantire. Quelle poche volte a cui ho potuto assistire agli allenamenti, assieme ai colleghi della Juventus in questa stagione, si nota subito come Perin abbia rispetto del gruppo e come sia un grandissimo motivatore. A parte che è una macchinetta, cioè coordina i movimenti, non solo del pacchetto retrato, bensì di tutta la squadra. È uno che ha una visione di calcio, mi dicono che sia proprio appassionato, quindi magari in futuro, chissà, potrebbe diventare anche un ottimo allenatore. Tanti portieri appesi guanti al chiodo hanno poi preso quel tipo di strada. Quindi Perin è uno che fa gruppo ed è un portiere eccellente, fine. Infatti il suo rinnovo fino al 2025, tra l'altro a ribasso, secondo me è stata una nota lieta e soprattutto ha blindato la porta, perché la gerarchia è molto chiara, Scesni è il primo, lui è il secondo, però quando Perin deve giocare alza sempre il livello. E tra l'altro la Coppa Italia è roba sua, vedremo lui titolare sicuramente martedì contro l'Inter, ma è bene avere anche una sorta di competizione interna sana, ma simolante, perché io credo che andare al campo ogni giorno e dimostrare sia poi determinante per crearsi longevità all'interno dello stesso spogliatoio, all'interno dello stesso progetto. E quindi era curioso, era curioso questo retroscena raccontato direttamente da Perin su come la Juventus, inteso gruppo squadra, abbia ricevuto la notizia della penalizzazione. Ha parlato anche Gatti, che ha detto una cosa secondo me sacrosanta, ha detto non si diventa fenomeni o brocchi nel giro di quattro giorni, ovvero Friburgo-Juventus-Inter-Juventus. Devo dire anche che mi sembra che Gatti, quando non ha giocato, abbia lavorato tantissimo con lo staff tecnico, perché si è notato, ma in maniera palese, cristallina, come determinati errori non li faccia più, e quindi si diceva che nell'allenamento cerchi di perfezionarti, ti devi perfezionare, perché poi se vuoi giocare alla Juventus devi alzare anche il tuo rendimento individuale. Però è bello come questo ragazzo sia riuscito a cambiare il corso degli eventi, perché a un certo punto ho avuto la sensazione che Gatti fosse l'ultima opzione per il pacchetto a retrato e che potesse essere segnato il suo futuro, quantomeno con un'annata di ulteriore apprendistato fuori da Torino. Invece queste performance rilanciano la sua seconda parte di stagione e chissà che non porti la stessa Juventus a scovare definitivamente un ottimo giocatore su quale puntare su base pluriennale, perché i titolarissimi anche nella prossima stagione saranno quei tre. Dietro, se si gioca col 3-5-2, secondo me la base per la prossima stagione sarà questa, il trio è quello verde-oro, Danilo, Bremer, Alexandro. Poi dietro c'è spazio, c'è spazio per emergere, perché Bonucci è una parabola fortemente discendente, soprattutto in termini di continuità. Rugani è perfetto, soprattutto se poi ci fossero cifre un po' più consone per chiudere il reparto, perché deve avere anche un quinto che accetti di andare in panchina, di stare zitto, che quando gioca poi faccia il suo. Però è determinante la figura di Gatti, perché se Gatti dovesse confermare questo genere di performance, beh, a quel punto avresti quattro titolari, praticamente, più Rugani, che ha messo in un concesso che voglia giocare con continuità, se decidi di fare, lui è sul contratto con escadenza 2024, se decidi di fare il quinto o il sesto, secondo me la US lo tiene, è un po' Bonucci che deve diventare la cartina di Tornasole per capire su che progetto andare, cioè se andare su un altro difensore, se responsabilizzare, come io auspico De Ruysen, che secondo me ha delle potenzialità molto interessanti, può giocare come Mancino nella difesa 3. Però è determinante che Gatti faccia capire di che passa sia fatto, proprio come sottolineato, contro il Friburgo e l'Inter. Ricapitolando, poi invece per quanto riguarda i rientri, oggi abbiamo visto Dujan Blaovic allenarsi alla continassa, gli ultimi ad arrivare saranno Paredes, che però è squalificato contro il Verona, e Di Maria, già oggi attesi in Italia, e quindi solamente domani saranno alla continassa, e per questo penso che il Fideo contro il Verona andrà in panchina, perché a 24 ore dal match si è appena rientrato dall'impegno con l'Albis Leste, non so, mi sorprenderebbe tantissimo se dovesse giocare dall'inizio, soprattutto considerando come in prossimità probabilmente la partita più importante. è il primo round in semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. Un abbraccio!